In nome di Archimede, in nome di Sibenhocking, in nome di Einstein, iniziamo la mattinata. Iniziamo la mattina, iniziamo la mattina. Questi sono i cervelloni della scuola che sono nella gara online. Attualmente sono cinquantesimi, però si spera che nel giro di due ore addivino primi. Iniziamo la prima X che è a 3.14 metri e la seconda X che è a 6.28. Iniziamo la scuola. 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 Iniziamo la scuola.